bentornati a tutti arancione podcast dopo una pausa non volu mezza voluta diciamo che ho avuto tantissime altre cose che purtroppo mi hanno portato via dal pubblicare un episodio della settimana siamo tornati con un mega puntatone già annunciato plurime volte su twitter e puntualmente disatteso l'aspettativa per cause di forza maggiore diremo in questa sede cause di forza maggiore ora siamo qui puntata quindi insalata d'economia abbiamo quattro ospiti davvero eccezionali ora ve li introduco subito li lascio fare una breve presentazione e poi partiamo e ci fiondiamo dentro l'economia che circonda il nostro mondo in cui siamo immersi quindi il primo ospite non per importanza chiaramente l'ordine è casuale qui è il signor marco costanza lui lo conoscete tutti ciao marco buongiorno andiamo se riescono a spaccare il microfono ok buongiorno a tutti poi abbiamo il suo collega il suo il suo clyde lui è la bonni il suo clyde simone taverna ciao simone ciao ciao a tutti grazie mille per l'opportunità poi abbiamo un outsider un po un outsider leo del pastis diciamo che è l'unico qua che non ha non produce un contenuto però io lo personalmente lo lo esorto a farlo perché secondo me ha tante cose da dire ha tante cose interessanti da comunicare ciao leo ciao ciao buongiorno a tutti se sono l'unico qui che non ha un podcast esatto e ultimo ma non per importanza francesco l'host del truffone ciao francesco ciao a tutti grazie per l'invito allora è un piacere ovviamente avervi tutti qui io vi ringrazio per la disponibilità e per avere concesso all'arancione podcast parte delle vostre preziosissime ore io partirei subito e mi fionderei dentro la vostra personale esperienza formativa ecco perché è una cosa molto interessante secondo me da far conoscere da far sapere a chi ci ascolta è come viene affrontato il tema economico nelle università ora qui abbiamo l'opportunità di vedere anche generazioni differenti tra di voi tra di voi ci sono diversi anni di differenza quindi avete anche frequentato atenei diversi quindi secondo me sarebbe anche interessante capire un po le differenze di non so di come è stata improntata la materia economica piuttosto che appunto se alcuni argomenti sono stati più trascurati in favore di altri se come insomma come avete vissuto voi la vostra esperienza formativa in ambito economico e come la giudichereste quindi se per voi è stata una buona formazione se avreste incluso qualcosa in più o magari avreste tagliato qualcosa insomma adesso magari esatto a turno ci dite un po come come è stata partiamo da francesco quindi andiamo in ordine inverso francesco allora tu intanto dove hai studiato quando hai studiato dacci un po un 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 quadro della della tua situazione formativa allora io sono più vecchio mi sembra anzi non hai detto l'età qua sarebbe dopo interessante dirla io sono del 71 quindi passato i 50 ormai e ho studiato a milano alla cattolica il corso in trasformazione le scienze bancarie diventato economia bancaria finanziaria assicurativa bella esperienza devo dire anche perché io venivo dal paesello dalla provincia quindi una grande città un'università anche abbastanza prestigiosa come è considerata quella devo dire che l'ho passata ma anche ingenuamente insomma di economia sapevo ben poco ho fatto lo scientifico quindi devo dire che tutti i corsi mi sono piaciuti ecco sulla micro e la macro devo dire che mi sembrava abbastanza semplicistica come è stata spiegata qualcosa non mi tornava in queste formulette equazioni ma le leve da tirare di politica monetaria fiscale insomma mi sembrava un po tutto troppo bello per essere vero anche perché voglio dire le crisi c'erano state problemi ci sono sempre stati questo metodo diciamo in meccanico di gestire l'economia a me non tornava c'era qualcosa mi era rimasta una pulce nell'orecchio una pulce nell'orecchio che poi sono andato finalmente a esaminare e a capire solo a distanza di qualche anno però scelsi quel corso perché io ero interessato più che altro ai mercati finanziari e anche quello che ho fatto dopo perché poi una volta laureato nel 95 ho lavorato praticamente per vent'anni sui mercati finanziari ero andato per quello di macro di micro sa interessava poco mi interessava più capire come funziona la borsa come funziona i mercati finanziari come speculare e guadagnare soldi tendenzialmente quello è quello che mi ha portato a fare economia per altra scelta proprio l'ultimo anno avrei dovuto fare ingegneria poi lessi qualche libro ora non mi ricordo neanche quale che mi affascinò proprio l'economia e anche questa opportunità che offre nei mercati finanziari di poter diciamo accelerare certi percorsi per guadagnare dei soldi il mio obiettivo era sempre stato quello diciamo di liberarmi quanto prima della schiavitù alla quale siamo quasi tutti condannati di girare la ruota come i criceti in maniera sempre più veloce soprattutto ora alla luce di questo truffone monetario che ormai è nella fase finale del suo declino e costringe la maggior parte delle persone a girare la bella ruotina in maniera sempre più veloce per guadagnare sempre meno quindi questo è stato il mio percorso non so se è sufficiente o ti interessa interessa qui anche capire qualcosa altro però ripeto a me più che la macroeconomia questa cosa che poi sono andato a studiarmi dopo interessavano i mercati finanziari e su quello sono stato soddisfatto ovviamente non puoi mai capire finché non metti mano nella pratica della realtà è tutta teoria quella sui libri voglio dire serve anche a poco e ho avuto anche dimostrazione quando ho finito l'università ho cominciato a fare i primi colloqui di quello che avevi studiato non gliene fregava assolutamente niente soprattutto a società come una jp morgan o altre banche anche che o goldman sachs che hanno tutto l'interesse a formarti loro una volta uscito quindi forse meno ne sai e meglio è quindi diciamo che se dovessi dare un giudizio su quanto quello che tu hai imparato in università e quanto invece hai imparato fuori quanto ha influito quello che hai imparato in università quanto ti è stato prezioso utile ma guarda avendo fatto anche lo scientifico io ti posso dire che i quattro anni di università è solo una base per continuare a far funzionare il cervello in realtà quello che impari là diciamo sono quelle quattro nozioni come di matematica ormai a quest'età non ti ricordi più sì magari riprendendo il libro riesci a capire come gli integrali le derivate di nuovo ma ricordi solo le basi di matematica e anche devo dire dei corsi fatti all'università cosa ti rimane ti rimangono un po di base quella elasticità mentale che ti ha dato lo studiare certe materie per il resto non è che rimane molto quindi a livello di contenuti ma no ma io guarda per me tutta e su questo entreremo su altri discorsi tutta l'educazione pubblica nel momento in cui è statalizzata funziona malissimo per me le scuole funzionano tutto è malissimo non soddisfano le esigenze del cliente soddisfano solo le esigenze di crescere la mandria di pecore questa è la verità una scuola libera lasciata al libero mercato anche questa funzionerebbe molto diversamente così come il denaro che sappiamo benissimo essere nelle mani dell'autorità ok invece magari dei professori hai notato che volontariamente o involontariamente hanno trascurato piuttosto che spinto su un particolare argomento piuttosto che un altro no guarda devo dire non erano non avevo neanche quelle capacità critiche all'epoca io sono maturato devo dire quando ho cominciato a lavorare ero un ragazzino che studiava studiava perché i miei facevano sacrifici per farmi studiare ho finito l'università in quattro anni studiando come un mulo divertendomi anche poco però devo dire quello è stato il mio percorso gli insegnanti ne ho apprezzati diversi devo dire forse quelli che ho apprezzato meno proprio quelli di micro di macro che mi sembravano convintissimi con queste formulette qua di poter tirare le leve e gestire l'economia a piacimento in realtà non è così lo sappiamo benissimo ottimo ottimo grazie francesco allora passiamo adesso a marco marco dacci un po la tua storia ah beh facile io in realtà non ho studiato praticamente nulla nel nelle scuole robe del genere di economia e finanza e si vede e fa come anticipato palese è troppo scontato vabbè no in realtà mi sono appassionato nel 2016 per la prima volta partendo un po dalla speculazione quindi dalla ricerca del guadagno facile però poi mi ha mi ha colto invece molto più l'aspetto psicologico sempre stato appassionato di psicologia per me i mercati non erano nient'altro che poi psicologia delle persone applicata a quello che è di più importante c'è nel mondo c'è proprio la finanza e quindi ho sempre voluto di più approfondire per dire ok ma perché la speculazione funziona così perché le persone comprano vendono in questo modo come è possibile che nello stesso momento due persone dalla parte opposta del mondo pensi in una cosa completamente opposta sul futuro di un asset e quindi lì mi sono un po' interrogato iniziato un po a studiare come funzionava come come non funzionava e pian piano ho capito quali erano diciamo i come dire market mover quindi quali erano le basi che muovevano l'economia da lì ho iniziato a capire l'inflazione tutti i discorsi appunto delle banche centrali le politiche monetarie ho sempre di più approfondito finché poi non è arrivato il famoso bitcoin che dal momento in cui ho iniziato a capire perché inizio nasco shit coiner come la maggior parte delle persone anch'io ho fatto quella brutta carriera quando poi ho capito bitcoin lì ho iniziato a vedere l'economia anche sotto un punto di vista tra virgolette più umano quindi ho iniziato un po esulare quello che erano i mercati finanziari per cercare di capire proprio il sistema economico cioè realmente il sistema nel quale stiamo vivendo è quello migliore quello più efficiente le disparità che ci sono sono una causa sono un effetto come mai siamo arrivati a questo punto in cui tra virgolette tutti ci lamentiamo e soprattutto mi sono sempre interrogato se il mondo così come lo conosciamo quindi diciamo così via il fiat standard sia una cosa che ci siamo creati per necessità e quindi di nuovo qual è il problema causa effetto cioè ok noi abbiamo bisogno del fiat money perché dobbiamo mantenere un certo status oppure noi abbiamo bisogno di questo certo status e quindi il fiat money è l'unica possibilità che abbiamo e insomma ho iniziato un po a studiarmi queste cose qua ho letto un sacco di libri guardato un sacco di video però io di tra virgolette diciamo così scolastico non ho mai fatto niente sempre fatto tutto in maniera personale autonoma e devo essere sincero non vedo alcuna alcuna differenza con chi magari ha studiato tipo col mio socio col mio collega con il quale alla fine parliamo tranquillamente di finanza di economia di mercati quando anche noi facciamo nostro podcast cioè siamo sullo stesso piano sullo stesso livello perché poi le informazioni basilari sono quelle come sempre dalla teoria alla pratica c'è molta differenza quindi in teoria ti insegnano 300 miliardi di cose poi nella pratica sono cinque le regole che ti servono per sapere quello di cui stai parlando certo e diciamo le risorse che più hai sfruttato o con cui più tu personalmente ti sei trovato bene non so libri ma allora libri ti dirò sono tanto vecchi quelli che ho letto i classici proprio tipo analisi di mercati finanziari il più famoso quello di marfi quello di pring però sono libri veramente scritti anni 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 fa che ho trovato poco utili ma dei tomi di 500 pagine che però alla fine non ti lasciano tantissimo mentre ho trovato molto più utile seguire alcuni canali youtube leggere articoli online in quel caso si lì invece mi ha aiutato molto di più e quindi questo tra virgolette un po mio consiglio comunque dove mi sono trovato meglio leggere cose attuali e capire adesso c'è stato il fallimento delle banche come mai cosa è successo inizi a leggere un articolo da quell'articolo trovi cioè capisci una cosa e ti vengono altri dieci dubbi inizi anche a cercare di chiarirti quei dieci dubbi e man mano vai sempre più in profondità e pian piano capisci tutto ottimo ottimo bene bene ok grazie siamo invece ora a leonardo leo anche te stesse domande quindi raccontaci un po il tuo percorso di studi allora io sempre sono sempre stato appassionato di politica già dal liceo eccetera quindi quando ea quindi anche di economia ma l'economia che puoi capire sui sui giornali su su quella carta staccia che si chiama repubblica corriere della sera su tutte quelle cose lì arrivo all'università di giurisprudenza di bologna al primo anno ti fanno fare economia è uno degli esami più grossi che c'è il primo anno e non ci capisco una bene amata fava perché l'economia è l'economia che insegnavano a giurisprudenza bologna nel 2004 io adesso faccio 40 anni sono dell'83 e a quegli anni lì quindi negli anni 2000 che stavo che facevo università era tutto incentrato sui mercati a concorrenza perfetta tutto come diceva francesco prima formulette equazioni tutti questi discorsi qua per cui la matematica era l'unico vero verbo dell'economia e tutta l'applicazione dell'economia possibile era basata su formule matematiche io già da lì comincio a capire c'è qualcosa che non va e comincio anche a mi ricordo a lezione che gli rompevo le palle al professore perché c'era della roba che non mi tornava cioè non si potevano sostituire comportamenti umani possibili con regole matematiche tornando al discorso che faceva prima a buon costanza eccetera e quindi un'altra cosa che mi mi diverte molto pensarlo adesso era il giorno in cui spiegò il costo del denaro che io lo feci incazzare cioè il professore a un certo punto mi disse no è così basta perché io continuava a incazzare perché c'era della roba che non mi tornava perché non era possibile che il denaro avesse un costo sulla base di che cosa c'è quanto proprio le le cose basiche no bene quello era il libro che veniva usato per tutta per tutta giurisprudenza e tutto scienze politiche quindi fondamentalmente quel tipo di economia basato sul mercato a concorrenza perfetta per cui è un modello a tendere che tu gli dici sì ma com'è possibile arrivare no no ma è un modello a tendere era quello che veniva insegnato in buona parte dell'ateneo bolognese e nella mia visione successiva era sempre un modo per comunque fare il lavaggio del cervello alle classi di igiene ottimo quindi c'era già tu percepivi del dolo dopo dopo percepito del dolo all'inizio non ci capivo niente mi sembrava che stessero dicendo castrate e mi avrà dato fastidio dopo nel 2007 scopro quella cosa che viene definita complottista che però è il signoraggio bancario e da lì si apre tutta una stagione invece di studio approfondimento sia sulla moneta ma su un diverso tipo di economia quella tanto odiata dal nel mondo bitcoin che è l'economia keynesiana che non c'entrava assolutamente niente con quello che avevano cercato di insegnarmi all'università dal 2007 fino al 2020 21 nel 2021 finalmente approccio bitcoin in una maniera diversa cioè comincio a cercare di comprendere lo studiallo e lì invece c'è una stagione diversa uno studio uno studio su bitcoin e su come questo si possa anche benissimo conciliare con un'economia keynesiana ottimo e quindi anche tu se dovessi dare un giudizio su quanto dei contenuti appresi in università hanno poi contribuito a formare il tuo pensiero economico diciamo attuale quale quale sarebbe ma non saprei dirti sicuramente il non capire una cosa e cercare di di comprenderla o anche solo contestarla e confutarla ti porta a studiare di più certo assolutamente però appunto come dicevi te in università non hai trovato tanto un luogo di dialogo di confronto a un certo punto mi è stato detto no è così e basta in un'aula universitaria con 300 persone molto chiuso molto molto male ok ok grazie leo adesso passiamo a simone ultimo sempre non per importanza stesse domande prego ma allora io arrivo allora io ho 25 ho 25 anni lo dico così almeno abbiamo un'idea e arrivo anch'io da un background universitario in realtà prima ho fatto ragioneria e verso gli ultimi anni mi decido cioè mi piace l'economia quindi io ho detto boh voglio andare a fare finanza comunque dopo economia aziendale ho fatto economia aziendale e poi gli ultimi anni mi sono specializzato in finanza a Torino e il il punto è questo nel senso che comunque io quasi da subito a parte i primi due tre anni che sono sincero li ho presi un pochino diciamo un po' per le donnine si può dire sì lo diciamo lo diciamo lo diciamo è così per poi capire no effettivamente che una volta che sei dentro devi un attimo anche andare avanti e dire ok perché sono qua e quando cominci poi realmente a vedere a diciamo a fare anche un po' di network no perché poi così ho conosciuto anche Marco cioè io andavo all'università ho fatto dei diciamo andavo a quelli gratuiti in realtà perché chiaramente giusto per chiedere cose alle persone no volevo fare trading volevo volevo imparare eccetera eccetera così appunto il motivo principale è stato di questa voglia di farlo è stato proprio che comunque le nozioni universitarie non sono minimamente sufficienti per poter approdare nel nel mondo reale ma a prescindere che poi sia lavorativo o meno cioè io ho fatto anche un esame sul trading e nonostante il mio professore sia molto qualificato comunque l'esame era quello il programma era quello devi studiare quello poi alla fine nella realtà non è che che poi ti portavi più di tanto ecco detto questo io infatti ho iniziato praticamente poi finiti tre anni che me li sono un po' goduti quindi ho iniziato subito a lavorare quindi mi sono reso conto che non era più sufficiente stare lì mi sono reso conto che non era più sufficiente quello che mi insegnavano tanto che appunto apro un progetto con Marco che poi si è trasformato in un podcast ma all'inizio era tutt'altro giusto per implementare cose che poi imparare da da altri perché poi avevamo dei professionisti dentro questo progetto quindi imparare da loro cercare cose nuove devo dire che l'università mi è servita più che altro a una cosa se posso dire una semplice cosa cioè mi ha attivato il cervello quello sì cosa vuol dire vuol dire che all'inizio volevo fare l'università perché volevo quello che le persone normali in genere hanno quindi volevo comprarmi una bella macchina volevo guadagnare di più volevo cioè queste cose qui in realtà ora lo voglio ancora ma comunque con 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 presupposti diversi no vabbè a parte gli scherzi e mi ha insegnato più che altro più che le nozioni a ragionare per obiettivi che questa è una cosa che prima non ero in grado di fare ora sono in grado di fare grazie appunto all'università cioè nel senso doversi gestire da solo determinate determinate scadenze doversi gestire da solo mole da studiare che poi è vero magari alla fine neanche poi mi ricordo tutto però comunque l'ho dovuto fare cioè questa cosa l'ho fatta mi è servita e diciamo che questa è la cosa che più a me è rimasta dell'università più che le nozioni macroeconomiche economiche che poi sono tutte relative ok ok cioè quindi da esterno io ho fatto quello che ha fatto Marco con la sua differenza che poi io non ho approfondito in realtà così tanto l'economia quindi io sono ancora a un livello molto inferiore rispetto a tutti voi però quello che da esterno qua posso capire da appunto da quello che avete raccontato tutti e quattro qua è che i contenuti proprio a livello contenutistico 5 anni di università 3 anni di università poco ti danno a livello contenutistico quindi il tanto sta all'individuo scegliere di informarsi di qui di là conoscere tante persone come avete fatto voi due creare qualcosa come lei o approfondire in privato quindi non lo so appunto se voi consigliereste di fare economia all'università adesso a un ragazzo che è interessato a queste materie io cioè io sono sincero lo rifarei nel senso che non sarei ipocrita dire non lo rifarei da capo cioè tornassi indietro non direi no non lo faccio mi formo in modo autonomo perché comunque mi è servito è stata un'esperienza e quindi io dico se una persona non sa oppure parte proprio da zero non sa come affacciarsi a nulla io dico di sì cioè nel senso se ci sono le università un motivo c'è comunque puoi imparare tanto puoi conoscere gente puoi conoscere persone puoi fare delle esperienze che siano anche all'estero appunto che non siano proprio solo ed esclusivamente formative ma anche a livello umano e personale cioè alla fin fine poi sono mettia uno che vuole fare anche solo 3 anni sono 3 anni cioè nel senso io ho fatto 5 anni avevo paura di rimanere indietro ho guardato la mia cerchia di amici dopo 5 anni loro erano nello stesso punto da cui io avevo iniziato l'università dopo 5 anni erano sempre lì io invece comunque se non l'avessi fatta probabilmente sarei stato lì con loro invece ad oggi sento che non è così quindi sicuramente uno sprint me l'ha dato dipende poi chiaramente da ognuno secondo me fa tanto la differenza comunque come l'affronti cioè come la scuola se l'affronti perché hai la passione cioè poco cambia che te faccia l'università o no nel senso comunque a casa ti leggeresti quelle cose perché ti piace l'argomento e vuoi veramente capirne di più se lo fai per prenderti il pezzo di carta perché poi vuoi andare a lavorare in banca e rovinare il mondo come fa Simone allora in quel caso vabbè cioè puoi fare l'università perché ti serve poi fisicamente per avere il foglietto con scritto bravo ci hai pagato la retta universitaria adesso puoi andare a lavorare da qualche parte però è la passione quello che muove tutto quindi se a uno gli piace l'argomento ovviamente approfondirà e ci metti molto molto tempo a studiare cioè non ci vogliono 5 anni per apprendere le cose che ti insegnano lì magari le apprendi in 6 mesi ma perché se è una tua passione tu giorno e notte non appena c'è un minuto libero che sia sul telefono che sia su un libro che sia in un video dove vuoi vuoi studi e leggi quelle cose quindi ognuno deve capire se gli piace veramente quella cosa là Francesco devo dire che il mondo è cambiato dai miei tempi quindi per come l'ho fatta io la riconsiglierei tutto sommato non c'era molte altre alternative oggi ci sarebbero non so conta anche l'aspetto umano come diceva prima Simone e fare quell'esperienza è molto formativa poi è chiaro se il ragazzo la va a fare come magari la fa il 90 per cento delle persone come pure esperienza ludica come diventato penso e dove si insegna sempre di meno non lo so però ci sono tante altre materie anche quando fai un corso come economia che ti lasciano qualcosa ecco se devo dire e ritorniamo anche all'argomento di prima in tutte le materie quello che mancava effettivamente studiando economia è la componente umana imprenditoriale non c'era il macro e micro non esiste l'essere umano fondamentalmente non c'è se ne guardi i libri nell'imprenditore non esiste forse c'è un paragrafo e anche in bei corsi come economia aziendale che ti possono far capire come gestire un'azienda è comunque solo una questione di management che potrebbe fare un'intelligenza artificiale manca l'imprenditore manca tutto quello quindi io non so mio figlio onestamente gli dico non fare economia c'è una biblioteca qua che fosse in Italia non c'è nessuno leggiti questo c'è di tutto veramente qualunque altro corso dipende specificatamente economia non lo so io probabilmente non la consiglierei più a nessuno anche perché il mondo è cambiato che sfoci hai oggi studiando economia lì all'università c'è tanto materiale disponibile online che all'epoca non c'era dovevi andare nella biblioteca a prendere ricordo ancora i libri se non c'erano in forma fisica su delle slide c'erano degli apparecchi allucinanti che sembravano già all'epoca di 30 anni prima quello era il materiale c'era veramente ben poco oggi hai a disposizione tutto quello che vuoi per ottimizzare il percorso di apprendimento ovviamente serve sempre una guida perché fare tutto da soli non è così facile ma c'è tutto il materiale che vuoi a disposizione quindi c'è un trade off ecco l'esperienza umana di vivere magari in un posto diverso come ho fatto io dove sono cresciuto a differenza della città di provincia in contatto con altre persone ecco questa è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire prima ero in un'università come ho detto abbastanza prestigiosa e anche lì mi resi conto forse come fa la battuta George Carlin it's one big club and you are not in it io non facevo parte del club devo dirlo venivo dalla provincia non ero nessuno ho stretto qualche amicizia con qualcuno che ma non facevi parte del club quel grande ambiente lì è un club ragazzi non ci siamo dentro questa è la verità e non ci sono mai entrato neanche che tutto sommato è stato un bene perché ho avuto modo di fare poi il mio percorso in totale autonomia andando a ristudiare tirando fuori la pulce dall'orecchio ricominciando da capo e trovando la mia strada senza dover dipendere da qualche gruppo che poi in cambio di un favore te ne continuerà a chiedere sempre qualcun altro esatto esatto Leo io come esperienza di vita l'università la consiglierei sempre perché ovviamente cioè l'avere a che fare in una maniera così leggera con tutte quelle persone ma anche solo avere a che fare con lo studio e avere mille semi da approfondire poi per i fatti tuoi è bello poiché sono d'accordo che buona parte dell'università ti insegni come la scuola e come tutta la formazione in generale a stare seduto al tuo posto ad ascoltare non avere veramente pensiero critico quello sì però è ovvio che se hai del pensiero critico il fatto che tu possa gestirlo gestirlo che tu possa come dire sì gestirlo comunque affrontare del pensiero critico sull'università su quello che andare a studiare cioè la mia esperienza è proprio che mi dicevano delle robe e io gliele contestavo e da lì mi si è aperto un mondo quindi come fai e comunque tornando a quello di Simone l'esperienza umana è sempre la più importante all'interno dell'università certo certo magari chiaramente un po' di tempo fa come quando magari ha frequentato l'università Francesco l'esperienza era secondo me anche tra virgolette più unica nel senso che era più raro trovare delle occasioni in cui poter fare quel tipo di esperienza senza senza frequentare un'ateneo senza frequentare un'università senza spostarsi dalla propria casa mentre ora appunto come abbiamo un po' detto tutti ci sono numerose offerte anche formative in più private personalizzate ci sono comunque si creano community legate appunto da una passione comune che può essere ovviamente quella economica quindi si creano dei gruppi delle degli speech da poter frequentare dei appunto dei ritrovi quindi secondo me se uno è appassionato di una determinata cosa può trovare grazie ovviamente a internet all'interconnessione che ormai lega tutti noi nel giro di mezzo secondo può trovare un'esperienza simile anche umana può trovare anzi forse più facilmente persone con cui confrontarsi sui temi a cui è interessato quindi è vero sicuramente magari non ci sarà non ci sarà la classica vita vita da college no in cui si fa si fanno i bagordi dopo le lezioni e tutto però per quanto riguarda chiaramente il focus del proprio interesse secondo me le community con cui interagire con cui imparare con cui crescere con cui creare eventualmente nuove opportunità possono essere anche lavorative è molto più presente attualmente se uno vuole trova le persone con cui parlare trova le persone con cui fare network e un'altra cosa invece è che è quello che è emerso appunto un po' è che l'università appunto ci sono metodi obiettivamente ci sono metodi più efficienti a livello di trasmissione dell'informazione del sapere economico diciamo e però bisogna scontrarsi anche con la realtà e quindi qua io vi chiedo chiedo in realtà soprattutto a Simone che è più giovane però se tu quindi se magari Simone e Marco ovviamente se tu magari appunto hai fatto un percorso come quello di Marco ti sei informato autonomamente e sei abbastanza giovane tu che opportunità lavorative hai nel tuo settore nel senso la laurea per dire quanto conta oggi se tu vuoi cercare un lavoro in quel settore cioè quale difficoltà può avere uno che si forma autonomamente ma che magari sa gli stesse cose o ha un buon livello di preparazione ma però non ha la laurea Eh dipende allora purtroppo vuoi o non vuoi almeno non sono come cioè vedi video su Instagram e di Instagram magari sulle startup che dicono a me non interessa tu che cosa hai ma mi interessa quello che sai Sì cioè per carità ci saranno settori e sicuramente anche luoghi lavorativi che sono così ma ti dico che se vuoi andare a lavorare per un importante gruppo bancario devi avere la laurea cioè nel senso fine è inutile che se invece almeno per partire poi non so se magari dopo vent'anni di esperienze uno riesce a entrare a fare cose riesce a andare allo stesso questo non te lo so dire ma ti dico da persona che appena ma lo stesso cioè se noi andiamo in quelle più prestigiose La Bocconi piuttosto che c'è un motivo se perché la gente ci va nel senso Mark può essere bravo quanto vuole ma non ha il titolo della Bocconi per andare a lavorare in JP Morgan quindi purtroppo ci sono delle condizioni che ancora ad oggi purtroppo per fortuna a mio avviso non puoi non puoi scappare cioè dipende sempre quello che vuoi fare Io volevo fare appunto il consulente finanziario per carità ho iniziato dalla banca tutto quello che volete però io avevo la necessità comunque di avere proprio perché non ho nessuno non ho magari nessuno dietro che magari potesse dire sai tutte le varie cose degli inserimenti e cose delle varie delle altre cose quindi secondo me è importante averlo nel momento in cui uno decide di fare determinati percorsi come dire l'avvocato l'avvocato vuoi o non vuoi la laurea devi averla il medico vuoi o non vuoi la laurea devi averla quindi ci sono dei settori in cui bisogna prenderla stare zitti e se si vuole lavorare in quella non è neanche un sacrificio nel senso è una questione che è un percorso che devo fare per arrivare al mio obiettivo se il mio obiettivo è fare l'avvocato fare il consulente lavorare in una banca prerogativa secondo me è averla la laurea ecco quindi fondamentale su certi aspetti fondamentale ok Marco esatto non so tu magari che hai provato da libero professionista approcciarti a questo mondo creare i tuoi progetti non so hai incontrato anche qualche no qualcuno che ti ha detto no perché non hai la laurea o hai esperienze di amici tuoi che ci hanno provato sì ovvio scontato nel senso se non hai la laurea non puoi andare a lavorare nelle cose tra virgolette istituzionalizzate perché c'è la burocrazia tutto quello che serve filtri non filtri ovviamente se io voglio andare a lavorare per qualcun altro ha senso che mi faccia la laurea perché come ha detto Simone ti serve se invece tu vuoi creare qualcosa di tuo per lavorare all'interno del settore finanziario a quel punto no non è necessaria e puoi benissimo fare le cose in totale autonomia però saprai già che difficilmente puoi come dire cioè non è qualcosa che te lo certifica e quindi devi dimostrare le tue abilità ma quando un'azienda ti assume anche che non è per forza governativi istituzionalizzata quello che sia se te li fa vedere il pezzo di carta dice ok questo intanto già mi fa vedere che almeno le basi le sa perché lo vedo se no non è che tutti hanno il tempo di testarti e vedere di cosa sei capace nel mio caso non me ne frega niente perché tanto io creo il mio personal brand quindi in un futuro se io volessi andare da qualche parte a lavorare nel settore finanziario comunque già hanno idea di cosa so e cosa non so perché ne parlo quotidianamente quindi lì potrebbero già avere una cartina torna sole per dire ok so già più o meno che livello è ma se io me lo studio per i fatti miei me lo tengo per me ne parlo così solo tra amici l'azienda che mi deve assumere c'è cosa ne sa non è che si può metterli per dire ah sì dai aspettiamo un mese poi vediamo se sai oppure no quindi dipende tutto da cosa uno vuole fare nella vita se uno solo vuole studiare per sé per i fatti propri da una parte per essere meglio impostato negli investimenti senza che uno deve per forza capire tutta la macroeconomia ma quantomeno so cosa sto comprando cosa sto vendendo ho idea di quali sono i rendimenti reali di come funzionano e quindi comunque un minimo ottimizzo il mio capitale allora a quel punto boh te lo tieni per te non ti serve la laurea ti fai quello che devi fare e ti ha aiutato a livello personale se no secondo me serve cioè non aggiungo soltanto una cosetta quello che dicevo prima che comunque le aziende oggi anche se uno esce con appunto esce dalla laurea tutto ha una laurea prende la laurea e io ho notato almeno nella mia piccola esperienza che a parità dei miei coetanei in cui siamo usciti e tutti magari nello stesso modo eccetera eccetera le aziende ad oggi guardano non so se prima era lo stesso ma guardano tanto 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 anche quello che tu fai oltre cioè nel senso che è fondamentale a me ha aiutato tantissimo il podcast piuttosto che la formazione che ho fatto all'esterno in modo autonomo quindi corsi ulteriori che ho fatto non all'università queste cose perché anche a parità di diciamo curriculum universitario persone sono state scartate la mia stessa posizione io no un motivo c'è non siamo diversi non mi conoscono non è perché ti scelgono perché sei cioè nel senso non ti conoscono quindi guardano tanto questa cosa quindi sempre lì siamo la laurea diventa una prerogativa per farti vedere poi dopo tanto sta senza a te in qualche modo farti farti notare diversamente anche perché ormai un calderone di persone che escono dall'università ogni anno ne escono migliaia quindi cosa hai tu di diverso no e le aziende lo sanno ormai ormai è quasi un diploma del diploma del tempo quindi serve sempre quello step in più che molte persone però non fanno ed è per questo che magari anche ci sono dei problemi di vario tipo ecco ottimo ottimo ok intanto grazie a tutti ragazzi che ci state ascoltando secondo me abbiamo avuto una buona fotografia di quello che è stato è l'università quindi se avete intenzione di intraprendere un percorso di studi se non ce l'avete insomma io qui penso di aver portato diverse esperienze diverse tra loro che vi hanno potuto dare un ventaglio appunto di vissuti differenti ma che secondo me possono sicuramente essere utili e aiutarvi nella vostra scelta ora invece passiamo agli argomenti spinosi e controversi partiamo subito con un una tricky question nel senso non tanto tricky la question ma quanto a chi la farò Simone partiamo da te quindi la scuola austriaca dell'economia esatto no i bitcoiner non è che non è che fondano però diciamo che in bitcoin la scuola austriaca dell'economia è portata su un vassoio d'argento è sicuramente una di quelle che ha contribuito di più al far conoscere bitcoin conoscere un nuovo tipo di economia legato a una rivoluzione quindi a qualcosa che andava contro quello che magari si stava vivendo era stato insegnato non so tu la scuola austriaca dell'economia l'hai studiata non l'hai studiata l'hai sentita non l'hai sentita cosa ne pensi ma allora ti dico io sono totalmente esterno a tutto quello che è l'ambito bitcoin cioè nel senso io vi spiego un pochino quella che è la mia il mio punto di vista ma non tanto perché c'è io ad oggi bitcoin quello che io vedo nel senso io sono da entrambe le parti nel senso che sono da una parte nell'economia sono totalmente dentro l'economia reale e in parte in qualche modo con mark anche diciamo spostato no in quello che sono magari delle visioni su bitcoin io non ho granché interesse a prendere quello che è bitcoin come studio di bitcoin come diciamo i massimalisti quanto più io sinceramente vedo bitcoin e utilizzo diciamo puro a livello puramente speculativo quindi cioè per me non è nient'altro che un asset da inserire all'interno di un portafoglio per diversificare di più il diciamo l'asset di rischio quindi alzare il rischio portare chiaramente una piccola percentuale per poter appunto andare ma da vendere e comprare quando c'è necessità quindi dico io non avendo interesse non non mi sono mai messo ad approfondire determinati argomenti cioè io bitcoin appunto lo vedo così lo vedo come asset di rischio al momento riserva di valore lo vedono tutti cioè non è una cosa almeno nel lungo periodo almeno così se si è dimostrato però io al momento lo vedo solamente in quel modo quindi dire di poter dare un parere su quello che può essere giusto quello che può aver fatto un l'economia l'economia austriaca io mi ci vedo un po esterno ecco ok quindi comunque ovviamente non ti sei informato tu perché appunto non ce n'è la volontà ma per dire non ne hai mai neanche sentito parlare comunque non ti è stato insegnato in università non è stato affrontato il tema no no ok e leo invece economia austriaca ma noi ne abbiamo già parlato allora e sicuramente università non non veniva assolutamente trattato tabù super tabù tabù così come in università non veniva non veniva parlare non si parlava di keynes salvo le rivisitazioni in chiave neoliberista di alcuni aspetti di keynes perché la famosa curva islm e poi come i liberisti come i neoliberisti hanno trovato una formula precisa per spiegare tutto diciamo il grande insegnamento di teoria dell'interesse generale della moneta eccetera comunque l'economia austriaca io sento sempre mi sembra un po una grande diciamo frangia oltanzista dell'economia liberista poi ovviamente la parte austriaca più 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 come dire più radicata se la prende con friedman mi ricordo anche francesco che gli dava dosso eccetera però vedo nell'economia austriaca effettiva quella parte per cui tutto si regola perfettamente in cui tutto c'è un credo quasi religioso quando sentivo parlare di come l'economia l'economia austriaca è onesta e giusta solo perché utilizza la logica deduttiva è un discorso che abbiamo fatto poi in privato io te io te francesco io non riesco a non riesco a trovare la quadra di questo così come l'assolutismo del libero mercato e per questa cosa per cui il libero mercato per forza tenderà al miglior il libero mercato assoluto per forza tenderà alla miglior situazione possibile così come la quantità ottimale la quantità di moneta che c'è nel mercato è sempre la quantità ottimale c'è tutte queste cose mi sembrano sempre molto atti di fede atti di fede che vedranno cioè a me piacerebbe che nel 2500 potessimo vedere un'economia di quel genere ma da qua 2500 ci sono 470 anni in cui quell'economia secondo me non può funzionare perché perché ha una visione ha una visione non dico molto a farfalle e farfalle fatine cioè sì mi piacerebbe ma Keynes dice esattamente così dice questa frase che è molto secondo me molto bella forse è davvero l'economia liberista mettiamo anche l'austriaca mettiamo la parte più libera forse è davvero come vorremmo che l'economia funzionasse ma pensare e l'avevo detto anche l'altra volta nel podcast con te pensare che i problemi che funzioni così e credere che i problemi nostri problemi si risolveranno da soli sappiamo che non è così è troppo complessa l'economia dell'economia e la macro economia anche se gli austriaci non credono che la micro la macro si possa differenziare anche questa cosa non per me non ha senso com'è possibile ripensare che un'economia aggregata di milioni di persone sia le stesse economia siano si valgano le stesse non dico leggi ma le stesse variabili che valgono per le micro economia dei singoli agenti non è possibile insomma ci sono pieno di contatti quelle che vedo io poi adesso sai posso parlare a ruota ma devo anche limitarmi però vedo un sacco di contraddizioni e ecco è una cosa importante su cui queste sono tutte contraddizioni diciamo su quello che l'economia austriaca vuole portare e però sono legittime no quello che invece vedo sempre dalla nella parte della bolla bitcoin nella nostra meravigliosa bolla bitcoin l'economia austriaca ce l'ha a morte con keynes quando keynes non se lo caga purtroppo più nessuno noi non viviamo più in un'economia keynesiana o quantomeno di ispirazione keynesiana dal 1980 e tutta l'economia austriaca ce l'ha a morte con keynes ok questa cosa quindi abbiamo già parlato anche di questa cosa qua è complicata cioè nel senso noi è friedman che prende il premio nobel non keynes ok 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 quindi questa visione è come se la visione futura ne possiamo parlare non siamo d'accordo la visione presente dobbiamo cioè vedo proprio che c'è qualcosa che non va nella visione austriaca ma non perché i limiti sento di poter dire stanno sbagliando ok sì quindi dici che ok appunto sicuramente potrebbe essere una buona condizione da raggiungere però in tutto il discorso che si fa non si tiene mai conto del percorso che dovremmo fare per arrivare la quindi in questo spazio qua non ci può chiaramente essere un punto di rottura netto in cui si passa da qui a qui ma c'è un percorso da fare e quindi che compromessi da accettare è una serie di misure che chiaramente andranno prese per magari arrivare a quel punto là ma che sicuramente non possono essere radicali e nette in quel modo quindi francesco adesso chiamo ti evoco evoco in causa te ti evoco esatto un mostro leggendario non so dici anche te due parole economia austriaca cosa ne pensi anche so un po quello che ha detto leo se ti ritrovi allora io come dicevo la pulce l'ho tirata fuori dall'orecchio come l'ho tirata fuori dall'orecchio sono andato a studiare tutto da capo e ho studiato tutto da capo non ho rifatto un corso universitario penso di aver studiato due volte quello che ho studiato all'università da solo per studiare la scuola austriaca eh non basta un libretto purtroppo che forse non è stato neanche letto da leo non so hai mai letto un libro eh di 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 mises dall'inizio alla fine o di rockbar no allora il bello della scuola austriaca non è di visioni o di robe strane è un approccio all'economia come abbiamo detto anche la parola che è privato totalmente differente che ha dei pregi innanzitutto di essere avere una consistenza logica quando tu cominci a a studiare dall'inizio alla fine eh ha una consistenza è logico non ci sono contraddizioni mi dispiace è anche molto chiaro è accessibile a tutti perché non ci sono mille formule matematiche se tu prendi un paper di eh economia oggi non ci capisci niente se non hai una una laurea anche in matematica e ti spiega anche anche la realtà è quello che a me sembra strano qua che non si riesca neanche a capire la realtà nella quale siamo questa visione liberista di oggi che non può esistere perché nel momento e qui torniamo a bitcoin eh noi siamo all'interno di un fiat standard che per definizione pianificazione centralizzata eh di un'autorità sul bene economico più importante che è il denaro e non a caso l'economia austriaca l'approccio austriaco si concentra molto sul denaro perché il bene economico più importante fa parte di quasi ogni transazione umana a meno che non sia eh affettiva no dove non si richiede una il coinvolgimento del bene monetario nel momento in cui questo bene monetario emano a un'autorità eh siamo di fatto in economia pianificata socialismo a me piace chiamarlo così eh siamo in un'economia socialista da tanti anni da cento anni da quando ci sia sganciati dallo standard dall'inizio con passi graduali d'Europa subito poi l'America dopo dal 71 sappiamo benissimo che ormai siamo in un fiat standard puro e eh bitcoin è nato su queste premesse su su quello che è lo studio dell'economia secondo l'approccio chiaro logico scientifico eh della scuola austriaca e su questo diciamo non vorrei di chiamarlo assioma ma comunque una di quelle eh verità che escono fuori in maniera logica studiando l'economia che qualunque quantità di denaro in un sistema è ottima non serve stamparne di più eh potrebbe essere ottima quella che abbiamo raggiunto oggi cioè lo è eh quella che c'era un tre anni fa quella che c'era vent'anni fa motivo per cui bitcoin è stato disegnato con questa funzione asintotica che arriverà a ventuno milioni eh questa eh io non è che posso se non si studia e io penso di aver studiato ripeto il doppio di un corso universitario eh quindi almeno otto anni ho dedicato agli studi di leggendo di tutto non c'ho non so quanti libri ho detto prima sta biblioteca di economia e non c'è solo roba austriaca ma c'è un po' di tutto fa fa invidia penso a tanti in Italia e quando la si studia mi dispiace non ci sono contraddizioni chi parla di contraddizione è perché o non l'ha mai fatto non l'ha mai letto non l'ha mai studiato perché ha sentito dire di questo di quell'altro eh i problemi non non c'è niente di perfetto perché prima ho sentito espressioni perfettamente il il mondo l'economia che l'economia alla fine non è altro che interazione tra esseri umani ovviamente sempre imperfetta viviamo in un mondo imperfetto eh infatti l'economia degli esseri perfetti probabilmente è diversa da quello dell'approccio austriaco che si basa su certe premesse quella dell'azione umana e della scarsità e in un mondo di esseri perfetti ci sarebbe forse no come la geometria euclidea e poi la geometria eh su un sulla sfera sono due geometrie diverse e nella geometria chiamiamola nell'economia della scienza umana di esseri umani imperfetti in un mondo come questo pianeta terra funziona in questa maniera quindi ci aiuta anche a comprendere molto bene la realtà ci aiuta a capire che non c'è nessuna perfezione il mondo è pieno di problemi ma è proprio qui che entra quell'imprenditore che manca dai libri di scuola nei libri di scuola è l'imprenditore che va a risolvere i problemi i problemi non si risolvono da soli tanto meno li può risolvere un essere illuminato e quindi il politico o il banchiere centrale perché non può avere le informazioni che hanno a disposizione miliardi di persone in ogni istante che agiscono imprenditorialmente in ogni istante per cercare di risolvere i propri problemi questo è il mercato questa parola che che sempre il mercato non è altro che interazione scambi volontari volontarismo tant'è che tanta gente preferisce ormai questa parola volontarismo nessuno ti obbliga a fare qualcosa qualcuno pensa che obbligando le persone a fare qualcosa si ottengano risultati migliori io magari nel breve ci possono essere anche dei benefici ma nel lungo sappiamo bene dove va questo te lo spiega di nuovo la scuola austriaca ogni interventismo quindi ogni forma di coercizione crea problemi nel lungo periodo che poi richiedono altri interventi e piano piano ci si sposta verso forme di socialismo sempre più aggressive dove siamo arrivati oggi non a caso siamo a livelli di aggressività istituzionale su quella che è la libera impresa la libera la libera funzione imprenditoriale di ogni essere umano siamo noi fondamentalmente che sta creando conflitti perché crea anche conflitti ovviamente la coercizione e l'autorità laddove il volontarismo è libero e siamo in questa situazione oggi bitcoin è nato per questo è nato innanzitutto per introdurre una forma di denaro sano nel sistema credo che ci sia riuscito non possiamo esserne sicuri perché ha solo 12 anni ma è nato sulle premesse giuste su quelle che la scienza economica perché per me quella insegnata a scuola è pseudoscienza non è scienza Keynes Friedman nel momento in cui metti un denaro finto per gestire l'economia che solo una una forma di estorsione fondamentalmente e di restribuzione della ricchezza totalmente arbitraria ecco quella era la prima cosa da rimuovere bitcoin è nato per quello è completamente coerente alla scienza economica speriamo che continui a funzionare e faccia il suo dovere come dicono tanti bitcoin fix the money fix the world ottimo ottimo l'evocazione ha sicuramente portato un grande intervento di francesco questi qui sono temi esatto molto 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 dibattuti chiaramente tra bitcoiner si tende a essere un po più d'accordo un po più dell'opinione appunto di francesco quindi interventismo assolutamente condannabile è giusto comunque avere tenere la mente aperta perché bitcoin proprio bitcoin ci insegna comunque non c'è nulla di certo nella vita se non la morte non esiste la certezza assoluta e quindi è giusto farsi anche andare a vedere anche all'infuori di quello che ci viene insegnato se posso ancora aggiungere una cosa io consiglio veramente lo studio dell'approccio lo studio dell'economia secondo l'approccio austriaco perché veramente affascinante io devo dire a me ha affascinato tu leggi un libro come azione umana che è difficile per carità sono 500 pagine ma la chiarezza di certi passi scritto nel 48 che sembra che parli di quello che sta succedendo oggi è una roba incredibile e ti aiuta veramente a capire la realtà io consiglio lo studio dell'economia ma quella vera appunto della scienza economica proprio per capire la realtà che ci circonda ma questa è la prima cosa capire la realtà che ci circonda per essere persone migliori per non farsi gabbare da chi vende illusioni tutto il tempo i politici banchieri centrali che raccontano un sacco di fandoni e ci pigliano per il culo tutto il giorno e per essere anche migliori imprenditori perché fondamentalmente se la scienza economica è basata sull'azione umana e quindi sulla nostra funzione imprenditoriale ti aiuta anche essere un migliore imprenditore di te stesso prima di tutto prima che essere un bravo gestore di un'azienda ma un bravo imprenditore di te stesso e questo per me è fondamentale e credo che debba essere il primo insegnamento da dare a qualunque essere umano questo delle basi della scienza economica se posso uno degli aspetti dell'economia austriaca e di sicuro io devo cioè come ha detto prima francesco perché l'altra volta gli avevo fatto vedere un libretto che stavo leggendo di economia austriaca e una delle cose che mi che mi salta sempre al naso è un in qualche modo una uno scollegamento dalla realtà c'è tanti concetti molto lontani poi dal reale cioè tutto quello che si dovrebbe essere tutto molto alto delle cose i discorsi che ho trovato che ho letto è le poche cose effettivamente ma quello che vedo è tutto molto alto e poi poco poi poco poco applicabile poco teareno ma non c'è niente di applicabile tu vedi hai purtroppo l'approccio è quello istituzionale all'economia no che non è che devi applicare niente non c'è niente di astruso ci sono non so come spiegarlo veramente diventa difficile perché quando uno è abituato a pensare che l'economia austriaca sia una serie di concetti di cose che bisogna non ti spiega come funziona il mondo basta come funziona la scienza economica è quello spiegare come funziona l'azione umana a che risultati porta che risultati produce quali possono essere le conseguenze non intenzionali anche di certe azioni umane soprattutto quelle istituzionali che tendono in maniera coercitiva a influenzare le persone a costringere a fare qualcos'altro ti spiega quello è semplice non c'è un mondo utopico ti sta spiegando solo il dinamismo tant'è che uno dei più bei libri anche del mio professore quello spagnolo e teoria dell'efficienza dinamica l'efficienza non è un concetto statico come nella macro nella micro quasi meccanico meccanico ingegneristico è un concetto di efficienza dinamica nel tempo se le cose sono lasciate vengono lasciate funzionare grazie alla nostra distribuita conoscenza e azione umana imprenditoriale tendiamo sempre a mettere le cose a posto a farle funzionare a risolvere i problemi è uno sviluppo è un film un film che purtroppo non vediamo da passa cento anni da quando hanno messo introdotto la fiat money tolto il go standard introdotto le tasse sul reddito e il mondo è dato completamente allo sbando secondo me il punto principale è proprio cioè quello che diceva prima francesco nel senso che si cerca sempre l'alternativa ad un sistema attuale un'alternativa perfetta cioè non esisterà mai c'è anche l'economia austriaca ai suoi pro ma anche i suoi contro cioè questo è il punto secondo me che bisogna capire io non sto cercando un sistema nuovo che risolva tutti i problemi e renda tutto perfetto e renda tutto iper funzionante senza più discriminazioni inequità e via dicendo ci saranno sempre comunque delle situazioni dove qualche persona c'è di più qualche persona c'è di meno però è esatto secondo me la differenza però qual è nella giustizia di queste situazioni cioè ad oggi col sistema attuale io non vivo in un sistema definiamolo giusto perché ci sono alcune persone che hanno oggettivamente il potere di decidere loro qual è poi il futuro loro e degli altri mentre in un sistema libero aperto sicuramente ci sarà chi si prende il monopolio di un settore ci sarà chi comunque cerca di imporsi con la forza ma non c'è un'azione diciamo così centralizzata e congiunta che dice ok quella cosa lì è così non la si può cambiare perché siamo in un numero esageratamente più alto noi che gestiamo questa cosa di conseguenza è così fine punto e basta ma il fatto che sia tutto un po più libero e decentralizzato lascia un po più spazio a quelli che poi sono proprio gli istinti naturali dell'uomo secondo me ci saranno comunque problemi ci saranno comunque persone che utilizzeranno più la forza persone che invece decideranno di utilizzare un aspetto un po più bono so definiamolo etico morale ci saranno sempre comunque persone brave e persone cattive però se le basi sulle quali si fonda queste società comunque partono già da un assunto che ognuno ha lo stesso potere di qualcun altro e poi lì è tra virgolette come dire tipo la legge della giunga cioè nel senso nella natura poi il più forte sopravvive in un'economia libera il più forte quello che sa utilizzare meglio gli strumenti a disposizione sopravvive però non hai un diciamo una centralizzazione che ti consente di essere il capo con una con un distacco sulla popolazione che è allucinante cioè ad oggi tu non ti puoi mettere a stampare perché altrimenti ti vengano a prendere a casa ti mettono in galera se tu ti crei la tua valuta per dire in un futuro decentralizzato tu magari crei la tua valuta comunque non andrei da nessuna parte perché non la usa nessuno fa cagare a tutti ce n'è uno che ha creato quella migliore e quindi c'è sempre la differenza tra te e qualcun altro però la sta decidendo il mercato non te la sta imponendo nessuno e quindi per me è questo un po il miglioramento che potrebbe portare un'economia del genere cioè il senso di giustizia che ripeto non sarà mai ottimo non sarà mai al cento per cento ci sarà sempre chi è più furbo più forte più raccomandato poi non dimentichiamoci che noi se ci arriviamo ad un'economia del genere partiamo da qua quindi chi ha il vantaggio adesso molto probabilmente riuscirà a costruirsi un vantaggio anche nel futuro però c'è la possibilità di essere un po più libri di poter diciamo far valere un po di più la propria opinione in un mercato che verrà regolamentato principalmente diciamo così dalla reputazione e poi che anche quella a volte verrà imposta con la forza ne sono sicuramente convinto cioè secondo me non vedremo mai un mondo perfetto dove tutto è bello tutto funziona e nessuno si lamenta la propria situazione ci sarà sempre chi si lamenterà perché avrà di meno di chi avrà di più però intanto però almeno in quel caso sarà colpa non di un ente centralizzato di un'entità che nel provare a dare opportunità chi non ne ha le toglie ma sarà colpa del libro mercato sarà colpa della della sua non capacità di sopravvivere in quel mondo quindi una questione di responsabilità e ognuno si prende si deve prendere la sua sì sì poi ripeto anche secondo me nel libro mercato si creeranno dei monopoli che sono simili poi entità centralizzate ma molto più piccole cioè è difficile che mi arriva una google che mi può decidere tutto quello che capita in america magari ci sarà una google che comunque sarà ipercentralizzata avrà che cazzo ne so la sua valuta più bella di tutte le altre però a un certo punto nasceranno tante altre compagnie che magari piuttosto che farsi acquisire che dire ok vabbè non ci posso far niente perché tanto le regolamentazioni le lobby fanno in modo che il vantaggio che a google sia ordini di grandezza superiore al mio a quel punto posso dire no non ci sto creo la mia piccola realtà locale e va benissimo e può funzionare nessuno mi dice no non puoi crearla quella realtà lì locale non non può funzionare guai stai infrangendo la legge quindi ti blocco subito sul nascere magari nascerà qualcos'altro ci metterà mille anni ma poi potrebbe prendere il posto di quella google così immaginaria perché realmente funziona meglio cioè si tratta proprio di libertà di poter fare azioni di poter prendere decisioni senza che per forza qualcuno mi debba imporre il suo pensiero ok ok sì 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 assolutamente diciamo che appunto l'approccio che perlomeno per quanto mi riguarda ho avuto all'economia appunto da esterno da persona non formata da persona che non sapeva nulla dell'euro della lira di come veniva come non veniva fatta è stato che appunto nell'approcciarmi a bitcoin ho dovuto prima e ho voluto provare a capire come funzionava quello in cui eravamo però a questo punto anche dopo l'intervento di francesco mi viene o mi verrebbe perlomeno ovviamente essendo di parte diciamo da consigliare a se ti stai approcciando a bitcoin se stai cercando di capire come funziona tutto a questo punto francesco il corregimi se sbaglio ma la fonte di queste informazioni potrebbe non dovrebbe essere magari i libri di testo classici ma cominciare a studiare l'economia attuale partendo dall'economia austriaca ma guarda e lì c'è il libro di sef dan amus che tra l'altro ho tradotto anch'io e ora sto lavorando sul fiat standard sono due ottimi libri e il fiat stand il bitcoin standard scusa è stato un bel trucco di sef dan amus per spiegare la scienza economica secondo l'approccio austriaco attraverso bitcoin è stata una genialità insomma basta leggerci quei primi sette capitoli per avere già un'ottima infarinatura di quello che è l'approccio all'economia secondo la scuola austriaca e poi c'è anche la parte di bitcoin il fiat standard va ancora più dentro parla di tanti altri aspetti di come il mondo fiat abbia stravolto quella che sarebbe la naturale vita dell'essere umano e quindi per me sono due ottimi libri dai quali partire c'è dentro anche tanta teoria poi chiaramente se uno vuole studiare prima si parlava di monopoli per esempio questo concetto che pochi hanno ben chiaro la differenza tra monopolio naturale e monopolio per legge monopolio naturale si ci può essere una società che assume sul mercato una situazione monopoli naturale ma se non ci sono barriera all'entrata che di solito sono tutte per le leggi no ogni nuova legge anche la cagata di mettere questa roba per cui hanno fermato per dire chat gpt no è una cazzata che non serve a niente clicchi subito lì non la stella leggere niente però già implementare quella roba ha un piccolo costo figurati te tutta la serie di stupidaggini che si inventano tutti i giorni sono tutte barriere all'entrata per impedire ai piccoli di entrare sul mercato un monopoli naturale rendendo alti profitti a chi è riuscito ad assumere quella posizione ovviamente verrà attaccato in continuazione da migliaia di imprenditori tutti i giorni da milioni di imprenditori tutti i giorni nel momento in cui c'è un monopolio per legge banca centrale non ci puoi fare niente sono loro prova tu a fare la tua banca centrale ma prova solo tu a fare la tua banca che è un grande cartello è un grande la banca è un cartello se io volessi fa una banca col cazzo perché non faccio parte del club come dicevamo prima e non la fai se non fai parte del cartello del loro club la banca tu non la fai quindi quelli sono i monopoli quelli sono i cartelli di legge gli altri non funzionano perché hanno fatto la banca centrale perché il cartello bancario prima della banca centrale era un cartello molto instabile giustamente perché tutti i cartelli anche lì alla fine anche quelli delle droghe o del petrolio prima poi collassano per qualche motivo perché anche nel cartello c'è l'incentivo a far saltare giochino c'è sempre qualcuno che l'incentivo è quello il bello della libertà di fare impresa e quindi il cartello bancario era instabile e serviva una banca centrale per dargli stabilità e non farlo collassare per tornare a un libero mercato perché il giochino la riserva frazionaria vabbè qui entriamo in discorsi lunghi ma anche in riserva frazionaria è un tema interessante abbiamo assistito lì a quel pagliaccio di quello che gestiva l'exchange italiano perché veramente non fatemi parlare ma questo imbecille probabilmente nonostante parlasse di compliance era in riserva frazionaria era in riserva frazionaria quando siamo andati a prelevare quello che avevamo lì non c'era ed è giusto che sia fallito è un pagliaccio perché fino al giorno prima diceva eh FTX è saltato perché ma noi siamo compliant e non faceva la cosa più stupida elementare che deve fare un exchange essere a riserva intera assolutamente questo spiego perché con l'economia austriaca capisci anche la realtà la capisci benissimo e ci devi sbattere il naso perché ti fidi delle persone e io ripeto in un mercato se non ci fosse stata regolamentazione che questo spacciava regolamentazioni e fosse stato un sito camuffo io non ci avrei tenuto più di tanto ci ho lasciato qualcosa per fortuna non tanto perché ultimamente lo usa un poco ma mi sono filato fino a un certo punto proprio perché era regolamentato ho sbagliato non bisogna fidarsi più sono regolamentati e più sono pericolosi a questo punto qua guarda le banche che poi le banche le continuano a salvare e ripeto le continuano a salvare con cosa a spese dei poveracci del popolo perché con cosa le salvi le banche stampando denaro e stampando denaro vuol dire diluire il valore di chi ha già in mano la valuta ne credi più e togli il valore a chi ce l'ha già in mano questo è il giochino è un giochino che continua ad andare avanti siamo forse alla fine speriamo di sì bitcoin cambierà le cose me lo auguro mondo perfetto non esiste non esisterà mai un mondo perfetto ci saranno sempre conflitti ma il modo migliore per avere una società per quanto più possibile pacifica è quella di lasciarla libera non di costringere le persone a fare le cose certo certo diciamo che anche questo poi è un periodo in cui personalmente anche vedo nella cerchia di persone accanto a me o nelle mie conoscenze stanno cominciando a nascere dubbi stanno cominciando per lo meno a nascere domande dopo che si vedono tutte queste banche fallire crollare exchange super millantati come super regolamentati fallire sicuramente è un periodo in cui perlomeno non dico che si arriverà tutti a sapere il giusto ma è in cui tutti si fanno tante domande e quindi forse all'inizio di una ricerca che poi porterà appunto ad essere coscienti a più coscienza ricordiamoci tipo la data di oggi cioè visto che parliamo di queste cose qua cioè oggi è l'esempio eclatante di come ci sia un problema nel sistema centralizzato cioè ordine esecutivo 6102 obbligato per legge a dare tutto l'oro che ti sei risparmiato durante una vita perché la banca centrale ha deciso che tu glielo devi dare punto e basta se l'hai lasciato in banca se lo prendi in automatico se hai lasciato tracce in giro che tu avevi dell'oro in casa in grandi quantità se lo regale detenere l'oro che tu ti sei comprato e risparmiato no no ma non ti preoccupare tanto te lo compriamo in dollari non è che te lo non è che ce lo regali poi se tu vai a vedere il grafico del dollaro dal 30 ad oggi il grafico dell'oro forse era meglio tenersi l'oro ti diamo cinque sassi in cambio dei tuoi lingotti il punto è proprio quello il fatto che una centralizzazione così grossa possa imporsi perché poi allora cioè se noi estremizziamo il concetto se avessi un monopolio esageratamente grande è la stessa cosa di dettar legge perché la legge cos'è la legge è il tipo che viene a prenderti e ti con la forza ti obbliga a far qualcosa perché non è che c'è non è nient'altro è quella poi l'imposizione della legge il fatto che io so che se non faccio qualcosa qualcun altro sopra di me ha il potere di mettermi in galera di farmi del dolore fisico e quello che sia perché poi alla fine la fiera è lì chi si arriva io potrei anche decidere di non rispettare la legge però poi chi c'è la sopra ha il potere di farla rispettare con la forza quindi in un'economia libera ci potrebbe essere qualcuno che arriva a essere talmente grande che può imporsi con la forza anche ad oggi se a noi le cose non stanno bene ci costa niente fare la rivoluzione cioè come è successo un sacco di anni fa tutti scendono in strada nessuno pensa più i fatti propri tutti si uniscono e ribaltano il potere si può fare anche oggi qual è il problema è che con il tempo con le regole tu riesci a creare una differenza sempre più grande dove puoi intervenire sempre più difficile perché un conto è quando quello che tu vuoi attaccare è due volte più grande di te quando inizia a essere mille un milione un miliardo di volte più grande di te allora lì iniziano i problemi quindi per me è tutta lì la sostanziale differenza leo ecco volevo cioè sono state detto un sacco di cose c'è il discorso della libertà di come il mercato si autoregola esiste un concetto base che è la differenza tra libertà formale e libertà sostanziale la libertà formale è che siamo tutti liberi è tutto bello e ok ed è e ci deve essere una libertà formale cioè che formalmente bisogna essere tutti liberi ma se questa libertà non può essere esercitata perché sostanzialmente ci sono delle sperequazioni delle differenze la libertà formale non conta nulla cioè è importante questo perché se uno è un poveraccio la sua libertà non conta nulla se tu sei un agente ma non è vero non è vero aspetta no magari conta ma non sei libero non sei libero ma non è vero ma non è vero ascolta il concetto è questo se tu sei libero come diceva pertini citiamo un grande che a te ti starà sulle balle lo capisco ma cioè se se tu non hai i soldi per mandare a scuola tuo figlio o per nutrirlo cioè sei libero di bestemmiare non sei un uomo libero e questa cosa questa cosa è molto importante il capire qual è la differenza tra formale e sostanziale ora se hai se pensiamo che possa esistere un'organizzazione per di persone o dei di di noi ok delle persone che sono imprenditori lavoratori e che possa cercare di mettere in moto dei processi che cerchino di equilibrare questo discorso di libertà sostanziale allora si può parlare perché la libertà sostanziale è anche quella che crea più competitività la competitività non è solo il discorso è uguale è lo stesso discorso non è solo un discorso di libertà formale la competitività è anche un discorso sostanziale prendo un esempio importante che vale anche per tutta l'economia che è lo sport nba e nba e campionato italiano facciamo un esempio del genere qual è qual è il campionato qual è qual è dei due più competitivo l'nba o il campionato italiano sicuramente l'nba perché ha tutti dei meccanismi di riequilibrio dei profitti io faccio l'agente di commercio e l'imprenditore non è che sono proprio l'emblema del socialismo effettivamente non è che va bene cercate di capirmi però è normale che la competitività possa essere migliore dove ci sono delle regole che cerchino di equilibrarle perché si tende si tende senza senza nessun tipo di regole l'azzeramento delle regole tende alla centralizzazione e non è un caso così strano non è un caso così remoto come diceva marco prima che poi avremo aziende così grandi da non riuscire a competere con loro è proprio quello che succede no non può succedere non può succedere io capisco anche che effettivamente c'è non so magari lo stato di mezzo però quello che abbiamo fatto in questi anni è stato generalmente deregolamentare anche se è pieno di regole del cast ma non è vero è un'illusione scusami Francesco rispetto agli anni 50 60 70 abbiamo tolto regole abbiamo aperto al mercato abbiamo abbassato la spesa pubblica ma abbiamo fatto questo non le abbiamo introdotte anche se le liberalizzazioni non sono vere Leo metti un attimo posto il microfono che ti si sente un attimo male anche se le liberalizzazioni non sono vere come dici tu il processo è andato verso quella direzione e abbiamo avuto un accentramento una centralizzazione degli agenti economici non una distribuzione vedi continua a non considerare la fiat money siamo qui a parlare in un podcast di bitcoin dove il problema essenziale è la fiat money come fa un sistema dove si stampano trilioni, trilioni, non più miliardi e neanche più milioni di cento anni fa perché cento anni fa si ragionava in milioni poi siamo passati a palla di miliardi negli anni 70 oramai si parla di trilioni ma io non ti dico che questo sia io ti dico che è sbagliato ma come no? ma è importantissimo è sbagliato ma è importante allora questo te lo spiega meglio il fiat standard il processo di stampare soldi in queste quantità oggi è un processo pazzesco che va a beneficio di chi? ma questa è la cosa più stupida che non c'è neanche bisogno di parlare di economia austriaca perché lo diceva Cantillon 250 anni fa i soldi che si stampano per primi vanno in mano a quelli più vicini alla stampante monetaria chi c'è vicino alla stampante monetaria? non prendiamoci per i fondelli c'è lo Stato e le grandi corporation lo Stato è il primo beneficiario può non aver fatto spesa pubblica ma gli hanno regalato centinaia di trilioni in questi anni allo Stato alle grandi aziende c'è tutto un capitolo del fiat standard che ti spiega come il business degli ultimi vent'anni sia arbitraggiare i tassi di interesse perché li prendi a zero dalla banca centrale e vai a far pagare il 10 a qualche altro Cristo questo è il grande business degli ultimi vent'anni è tutto sulla fiat money ma degli ultimi 40 addirittura dal 1980 a oggi è tutto un business della fiat money arbitraggiare i tassi di interesse questo è il grande business prendi a prestito a zero e dai a 5 a 10 ma il resto è tutto un effetto di questo ora io capisco che c'è gente povera e tu dici non sei libero solo di bestemmiare ma questo è sempre successo nella storia dell'umanità anzi esiste anche ora perché volendo ci sono gli indianini lì che sono un miliardo e mezzo tu sei mai stato in India? io non ci sono mai stato ma mi raccontano di situazioni allucinanti allucinanti ho visto qualche film sull'India questi che parlano sta lingua questo accento qua è interessante ma se volessimo allora resettare ma spogliati di tutto quello che hai spogliamoci di tutto quello che abbiamo perché c'è un miliardo e mezzo di indianini lì per non parlare di altre popolazioni che sono... non hanno la fame di più ma di cosa stiamo parlando? non puoi resettare... ma io scusami ma no fermati se siamo in questo sistema è per colpa anche della Fiat Money Francesco scusami allora intanto ti ho detto che io non ho cioè non ho niente in contrario con quello che hai detto prima nel senso che a parte che tu non dividi tra Fiat Money e moneta debito ma questo è un altro argomento ma è la stessa cosa è la stessa cosa ma è la stessa cosa ma stiamo a fare le pulci è la stessa cosa moneta debito Fiat Money è la stessa cosa moneta positiva è la moneta debito è positiva e negativa è quella neutrale è quella neutrale dai su non prendiamoci in giro c'è un bene monetario uno con un'offerta limitata scarsa è letta spontaneamente sul mercato prima era l'oro domani magari sarà anche Bitcoin e c'è la Fiat Money il resto sono robe per alchimisti la positiva la negativa la fa la banca centrale la fa la banca privata la fanno tutti la fa chi la può fare e chi è che la può fare soggetti autorizzati da chi gestisce il Fiat Standard che sono pochi cioè fondamentalmente gli Stati Uniti con delle varie agenzie sparse per il mondo tra cui la BCE e tutto il sistema europeo il discorso sull'arbitaggio dei tassi di interesse è un discorso cioè tutto il quantitative easing che è stato fatto negli ultimi dieci anni tutta sta roba qua se ne fa e non è che ti dico che non sono d'accordo ma non c'entra hai preso un altro argomento vogliamo parlare dell'Iria ma non c'entra ma non c'entra scusa un attimo ma capisci il trasferimento di ricchezza ma questo è il più grande trasferimento di ricchezza alla storia dell'umanità quello che abbiamo visto negli ultimi 40 anni e quello che sta arrivando ora perché chi ora è dalla parte sbagliata secondo me gli levano tutto quanto c'è gente convinta di avere risparmi in titoli di Stato in azioni in roba che è tutta fuffa ovviamente c'è il gran bel valore in tante aziende ma hanno distorto tutto io questa roba qua ho fatto il podcast nel 2016 l'ho lanciato proprio per mettere in guardia le persone perché una politica di tassi zero che andava avanti ormai da 7-8 anni avrebbe portato a uno stravolgimento che il 2008 era una passeggiata nel parco al confronto e io il 2008 ero davanti ai monitor a tradare perché gestivo anche un fondo equity ma quello che vedremo da qui al 2030 ma ragazzi hanno preparato le persone quella farsa lì durata 2-3 anni ma aspettate e poi è cominciata non a caso la guerra ora lì la stanno facendo perché devono far fuori qui è una guerra tra valute è una guerra tra sistemi il dollaro sta finendo è arrivato un po' alla fine dell'egemonia questo dominio del dollaro del FIA standard basato sul dollaro c'è tanta gente e qui torniamo al discorso dei cartelli di prima qualcuno non va bene qualcuno ha visto qui c'è una torta enorme in mano ai soliti ormai da 70 anni che vogliono mangiargli sul piatto e ci proveranno e quindi c'è la reazione per non parlare dei conflitti del sistema di povertà di conflitti che hanno causato nella società con queste succhiare risorse dalla popolazione se voi prendete ogni grafico dal 1971 oggi i salari reali il problema nasce nel 1971 non con la privatizzazione alla banca d'Italia di queste minchiate delle quali i signoraggisti e ballevari vanno parlando che veramente non si possono sentire io ho detto la mia ragazzi informatevi studiate siamo qua ognuno ovviamente cura il proprio interesse io ripeto io ho raggiunto quella che era spero una autosufficienza e indipendenza economica finanziaria grazie penso più per aver studiato queste cose qui perché per me dà grandissimi benefici studiare la scienza economica secondo quell'approccio capire bitcoin ti porta necessariamente a capire anche queste cose e mi sorprende di trovare certi conflitti in qualcuno che supporta bitcoin ma allo stesso tempo si fa promotore dell'interventismo alla fiat money delle monete positive e negative però le idee poi col tempo si chiariscono poi ognuno deve fare quello che sa fare bene portare valore è la cosa più bella che si può fare nella vita e portare valore agli altri perché si parla sempre anche questa espressione il libero mercato si autoregalamenta il mercato cosa vuol dire si autoregalamenta siamo noi il mercato ripeto è l'azione umana sono le nostre interazioni quotidiane e dare valore agli altri e di nuovo il profitto è solo un segnale ovviamente in un mercato libero non in uno distorto come quello di oggi il profitto è un segnale che si sta creando valore ragazzi il miglior segnale in un libero mercato che si sta creando valore è l'utile è il profitto creare valore per gli altri penso che lo stiamo facendo e forse l'abbiamo fatto anche in questa puntata gli ho parlato anche troppo devo dire rilascio la parola a voi e veramente grazie ancora per l'opportunità per essere stato ospite figurati Francesco anzi è stato un piacere ma sicuramente hai una voce diciamo idee si sente voce passione potente il messaggio traspare assolutamente diciamo che i due assunti su cui si basano appunto secondo me le vostre due differenti le vostre due idee differenti sono che chiaramente secondo Francesco e in realtà secondo anche me e molti bitcoiner appunto il problema sta proprio all'origine e qualsiasi cosa venga fatta con il presupposto di tra virgolette accettare appunto la fiat money è una merda quindi secondo me questo è solo la differenza grazie a tutti con appunto quello che vuole fare Leo Leo le idee di Leo secondo me in realtà sono molto interessanti perché lui da quello che abbiamo parlato spesso lui sta cercando di trovare un'alternativa virtuosa in quel mondo lì provando a giocare con quelle regole lì non magari tutte perché non le condivide chiaramente tutte come ha detto come ha detto anche durante questo episodio ma trovare una soluzione che faccia da bridge da ponte da questo in realtà da questo sistema in cui siamo adesso a magari uno più virtuoso senza escludere e senza etichettare come completamente errate invece alcuni presupposti che noi definiamo tali Marco non so se c'era qualcosa che vuole dire nel senso vabbè visto che abbiamo parlato di fiat money così molto velocemente secondo me il problema è proprio quello che si cerca sempre di trovare qualcosa di meglio che ci faccia crescere sempre di più che ci faccia star sempre più essere sempre più produttivi questo è il problema il fiat standard questo vuole fare vuole dire il pil deve crescere ogni anno e quindi se non c'è crescita dobbiamo per forza abbassare le tasse di interesse perché dobbiamo far crescere 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 non deve essere per forza così non vedo perché nel mondo non ci possa essere anche anni in cui non si cresce fine non ci sono le condizioni che siano di qualsiasi tipo finanziarie meteo qualsiasi tipo di problema che ci sia pandemie quest'anno è successo questa cosa qua il mondo andrà all'indietro ce ne faremo una ragione quando ci potremo riprendere in modo sano allora si continuerà a crescere e questa per me è la sostanziale differenza cioè una crescita più lenta ma più sana rispetto ad una crescita artificiosa dove è vero che la centralizzazione aiuta a crescere però lo vediamo poi che crea tanti effetti collaterali e si lascia tanti problemi lungo il cammino esatto esatto time preference quindi il discorso alla fine è quello allora scusa lei un secondo invece chiaramente scusa Simone abbiamo un po' ti abbiamo un po' trascurato e invece adesso però mi piacerebbe proprio sentire la tua opinione allora intanto se ti va se hai voglia un po' sui discorsi che sono stati fatti in questo assolutamente in questo tempo qua e allora ok quindi intanto se ti va appunto un commento un po' le tue opinioni su quello che hai sentito ma allora io più che altro ho ascoltato perché sono come dicevo prima sono fuori da questo mondo quindi non penso di poter dibattere su cose su cui appunto sta dette proprio perché a volte non le conosco proprio cioè so che ho ancora tanto da imparare il mio è un mondo che è opposto al vostro cioè nel senso dal mio punto di vista io non penso che sia cioè non penso che le persone siano abbastanza ad oggi sarà brutto da dire e potete insultarmi ma abbastanza intelligenti da potersela cavare da soli senza un qualcuno che possa dargli effettivamente una mano di conseguenza io sono io mi reputo pro a quello che può essere l'intervento dello Stato su un'economia nel momento in cui è necessario nel momento in cui bisogna sostenere ed evitare determinate disuguaglianze anche se si capisce che è un intervento del genere come sta come è in questo momento quindi non sto dicendo ad oggi quello che è stato perché comunque è un intervento esplosivo un intervento incredibile che danneggia è ovvio che comunque nel lungo poi danneggia quella che è la reale economia però comunque sia io non credo non credo che ci possa essere una reale totale libertà come voi dite e anche se ci fosse comunque come dicevate sono d'accordo che tanto le cose ritornerebbero comunque nelle mani dei pochi che l'egoismo umano secondo me non si andrebbe a perdere non so io dico dico questo c'è un mio pensiero totalmente di fuori aggiungo solo una cosa secondo me però sbaglia pensare che l'interventismo dello Stato aiuta quelli più bisognosi cioè comunque aiuta sempre loro stessi infatti milioni di poveri che vengono creati ogni giorno quindi secondo me l'intervento dello Stato peggiora la situazione non la migliora in questo caso cioè lo Stato non pensa poi al povero bisognoso certo ti crea il reddito di cittadinanza ti crea quello che sembra che vada ad aiutare te ma poi come tipo la minchia del bonus quello 110% alla fine non stai aiutando il povero il bisognoso cioè quindi in realtà secondo me l'interventismo peggiora solo la situazione anziché migliorarla quindi secondo me è solo lì io non so io non reputo che comunque le persone ad oggi siano abbastanza e sono d'accordo secondo me soccomberanno quelli che non si svegliano io questo non lo credo però possiamo fare dei distingui perché ci sono dei distingui da fare in ciò che è interventismo e non si può cioè nel senso il bonus 110 che sia una merda e che crei dei problemi lo si sapeva dal giorno 1 cioè nel senso se si legge cioè un conto è fare deficit togliendo tasse un conto è fare deficit facendo spesa pubblica se io costruisco un ospedale o costruisco o rimetto a posto una strada o porto la fibra in montagna che questa cosa gli dà fastidio a Francesco io creo ricchezza e creo valore per le persone che utilizzeranno questi servizi e se lo faccio con soldi nuovi di queste cose qua non per forza creerò inflazione ma comunque creo servizi e creo valore perché un ospedale è valore se creo una nuova strada dove ce n'era bisogno io creo una possibilità in più per tutti gli agenti economici in quel posto di scambiare merci più facilmente e quindi do la possibilità a degli agenti economici che devono essere liberi di fare tutto quello che gli fare o quasi comunque devono essere liberi di commerciare di farlo in maniera migliore e cosa ho fatto? Ho fatto un buco in una montagna magari no? cioè nel senso non è così cioè bisogna fare li distingo sull'interventismo statale adesso arrivo un secondo perché se no è tutto uguale se no è la stessa cosa anche sull'inflazione cioè non è che l'inflazione per esempio non è che dire che bisogna governare l'inflazione è corretto perché tenere l'inflazione al 2% è follia cioè vuol dire che cerchi un'inflazione quindi la vuoi è follia quello è il male quello è il male cosa succede? è che può può esserci dell'inflazione e non è che se c'è dell'inflazione per forza dobbiamo stracciarci le vesti può esserci della deflazione quando o l'una o l'altra diventano un po' eccessive e possono creare eccessivi problemi allora si può pensare di provare a fare qualcosa che le possa calmirare ok sono molto è un ben è distingo cioè ok è molto diverso da pensare che dire che l'interventismo ci può essere allora sia bisogna tenere l'inflazione al 2% secondo me però il problema è la base nel senso quando tu dici ok mi può portare la fibra in montagna dove altrimenti non l'avrebbe portata nessuno perché magari i costi superano i benefici il punto è che per una volta in cui quella cosa può aiutare qualcuno viene sfruttata molte più volte per invece avere un guadagno personale e quindi io utilizzo diciamo chiamiamoli così soldi che non sono miei e quindi alimento tutta una macchina poi di corruzione favoritismi eccetera eccetera quindi per una necessità magari di quella persona che abita in cima alla montagna e non avrebbe internet perché magari alla compagnia non gliene frega niente di portare internet là sopra invece lo stato dice no vabbè invece io sono lo stato ti do una mano lo stesso per un caso così ce ne sono 100 dove invece poi te ne approfitti perché dici ok però intanto quel lavoro facciamolo fare che ne so al cugino allo zio quello che sia e comunque non sono soldi tuoi e di conseguenza tu li sperperi cioè li spendi in modo molto meno responsabile perché sai che la responsabilità è molto più limitata e dici vabbè tanto questi qui ma l'utilità che viene l'utilità che comunque potrebbe venire dopo da determinati interventi secondo me non sono così non sono così negativi è vero che c'è che ho la corruzione lo sappiamo bisogna cercare di che non ci sia ma non c'è il punto di partenza invece è più importante di quello che può venire dopo perché può anche succedere che quella corruzione c'è proprio perché è incentivata dalla base dal fatto che tu comunque quelle valute adesso se parliamo ai livelli alti quelle valute io le stampo le creo e quindi io non ho alcun incentivo ad utilizzarle in maniera più che intelligente perché tanto dico vabbè sai cosa io le creo inizio a fare e poi vabbè un po' di soldi riperderemo poi la mano che poi non è così perché le valute le prendi a debito non è così perché la valuta le devi prestare il debito non è un problema cioè se guarda gli Stati Uniti il debito dov'è il problema quando raggiunge il debito alza il tetto per gli Stati Uniti o per il Giappone no esatto per gli Stati Uniti o Giappone no perché noi siamo sotto cioè l'Italia se tu stai guardando noi siamo mi pare i quarti al mondo come riserve auree eppure facciamo cagare perché poi dobbiamo sottostare a chi ha molto più potere di noi a livello economico e quindi stiamo zitti per quello che riguarda diciamo così l'ambiente fiat non possiamo muoverci uno perché siamo degli incompetenti a livello economico politico per starci i piedi da soli e però questo è proprio un problema legato al sistema nel quale viviamo che più che permette incentiva queste cose qua quindi mi incentiva a non prendermi cura in maniera sana di quello che sto facendo perché tanti soldi ci sono si creano in qualche modo se c'è un problema io li posso diciamo volgarmente stampare e in realtà cioè quando li stampo che noi parliamo di inflazione cioè non sto facendo altro che prendermeli dalle persone senza il loro permesso per me è quello il problema mentre io vedo più sensato la società tipo arrivata alla guerra in Ucraina con le criptovalute gente ha fatto le donazioni cioè non è che se non c'è quindi le fiat io non posso aiutare chi voglio non posso fare interventismo su qualcuno posso farlo lo stesso sono libere scelte non ce l'ho stato in quel momento non è che l'Italia o la Germania ha detto ok adesso aiutiamo il popolo ucraino da quella parte lì a livello statale avranno inviato le truppe avranno inviato gli armamenti quello che hanno inviato ma anche i cittadini ne hanno potuto farla loro dando ad esempio delle donazioni quindi anche per il ma la donazione scusami Marco però la donazione che fanno i cittadini è come è come il come dire è assistenzialismo cioè sì in quel caso va bene ma è come farci non è che aiuti le persone dando reddito di cittadinanza non aiuti nessuno cioè puoi fare un attimo ok ma non è un aiuto quello cioè quello è assistenzialismo è elicopter money che non crea valore non crea valore zero anzi è quello è quello che può creare sbilancio di consumo rispetto alla capacità di produttiva e creare inflazione un'inflazione che non ha dovuta ma quando tu crei i mezzi quando tu crei i mezzi di produzione o comunque finanzi i mezzi di produzione i mezzi di servizi lì non è che vai a non è che stampando vai a diluire quello che è il valore della moneta per forza non vai a creare inflazione per forza cioè non è così perché se tu hai creato dei mezzi di produzione in più il mercato riesce a rigestire e equilibrare quella parte di valore in più che c'è anche se c'è del denaro in più l'esempio secondo me era più per riconnettersi a quello che tu dicevi all'inizio tu hai sollevato il problema del povero che non è libero e che quindi va aiutato ad essere libero secondo me il concetto che voleva dire Marco in questo caso era che non c'è bisogno di uno stato che mi aiuti il povero ad essere libero ma tu il movimento libertario insegna questo che se tu vedi un povero se sei la persona brava che tu pensi che sia tutto il mondo che quindi siamo tutti c'è questa solidarietà mondiale collettiva e condivise quindi dobbiamo aiutare tutti se tu personalmente vedessi un povero per strada cos'è che ti impedisce di aiutarlo anche senza stato se la tua comunità il quartiere dove vivi vede un povero cos'è che ti impedisce di aiutarlo insomma i modi per aiutare chi ne ha bisogno ci sarebbero tranquillamente anche senza uno stato che invece lo aiuta a spese di tutti gli altri quindi questo diciamo è un po' giusto Marco il senso è anche quello qui il senso vabbè anche oltre però nel senso quello che dicono ad esempio il non so io dico il PNRR nel senso adesso a prescindere da come viene usato ok fa ridere ci sta però il punto è se uno venisse se venisse usato per realmente per creare valore in uno stato realmente chiaramente perché poi è chiaro ci sono tutte le cose che tu dici ci sono gli appalti ci sono i miliardi che se ne vanno c'è il 110 tutto quello che volete ma un intervento del genere di dimensioni così importanti se uno stato secondo me lo riuscisse a spalmare come si deve perché non dovrebbe essere l'intervento del stato non è l'incentivo utilizzarlo in modo furbo se invece tu inizi a prendere soldi dalle persone e io so che con cioè io ti sto pagando io in prima persona la costruzione di quella strada stai sicuro che la prima volta che tu quella strada la fai di merda la seconda volta me lo ricordo e tu azienda privata che fai quella strada per me è finito fine non mi affiderò mai più a te invece con tipo tasse tutto il sistema nel quale viviamo adesso se io io ti pago le tasse quella strada fa cagare e tu continua a farla anche la prossima volta continua a far che fa cagare continuerò a utilizzarla così tanto non posso farci niente tu non hai l'incentivo a farla bene perché comunque sai che sei te che decidi la crei te e tanto le tasse ti arrivano e quindi il pagamento ti arriva se c'è qualcosa che non va arriva l'intervento della BCE che tanto ti dai soldi e quella società non fallisce cioè tipo all'Italia quante volte l'han salvata non sei in grado di far funzionare una compagnia aerea fine la chiudi no bisogna salvarla bisogna tenerla in piedi perché ci sono le persone che ci lavorano eh cioè è sempre questa necessità di dire eh no però quella cosa lì così no deve funzionare la dobbiamo far andare quindi poi chi è che l'ha pagata noi cioè tu hai pagato il salvataggio di all'Italia non so quante volte quando tu potevi dire ma porca miseria togliete quei cazzi di manager incompetenti mettete qualcun altro e non mi rompetere palla a me che vi do pagare pure i salvataggi per me è questo che cambia in un'economia più libera cioè quello che funziona realmente può funzionare quello che non funziona realmente non può funzionare perché non ha un incentivo a funzionare mentre quando c'è qualcuno di mezzo che ha i suoi interessi con la scusa che ti sto salvando i posti di lavoro in realtà si mangeranno milioni quei quattro capi che sono lì che comandano che si prendono la buona uscita e dicono vabbè non ce l'abbiamo fatta abbiamo gestito male all'Italia pazienza prendo il bonus da 100 milioni e vado a casa cioè per me è questo il problema purtroppo le basi del sistema economico attuale permettono e incentivano questo e quindi per quello che secondo me bisognerebbe cambiare esatto in alcuni esatto dei discorsi fatti sia da Leo che da Simone sono stati usati tanti condizionali tipo appunto potrebbero dovrebbero se lo Stato facesse certo esatto secondo me appunto uno dei grandi cardini no sia del movimento libertario e quindi una critica anche alla democrazia rappresentativa vabbè qui entriamo nel politico però è il ridurre al minimo la corruttibilità tramite chiaramente un cambio di incentivi quelli di cui parlava Marco questi sistemi appunto di cui avete parlato quindi se si usasse di lì se si usasse di là cioè sicuramente porterebbero probabilmente un vantaggio a qualcuno e aiuterebbero realmente potrebbero appunto aiutare realmente le persone il problema appunto è che in questo sistema sia economico come quello politico nessuno nessuno di quelle persone che ha è in grado di prendere quel tipo di decisioni ha l'incentivo e il vantaggio e evidentemente neanche la la coscienza o la morale per compiere la scelta più vantaggiosa per i più e non per se stesso invece diciamo che appunto seguendo una scuola più libertare seguendo una scuola più austriaca la scelta più vantaggiosa per il singolo cioè per me stesso è anche quella più vantaggiosa per la comunità ma è solo questo in realtà che tristemente diciamo e un po' tragicamente mi spinge a fare la scelta migliore per me stesso contribuendo diciamo passivamente indirettamente al benessere collettivo ma non è sicuramente una scelta dettata dal fatto che sono una bravissima persona e quindi devo fare il bene collettivo perché sono in una posizione di potere quindi posso fare il bene collettivo e non a mie spese e quindi farò il bene collettivo questo qui secondo me è un grande problema sia dell'economia chiaramente come quanto della politica è che c'è un assunto fondamentale che non è detto che la cosa migliore per te sia la cosa migliore per la comunità esatto e diciamo che il target è proprio fare coincidere queste cose questa cosa è molto complicata è per questo che poi è ovvio che arriviamo a un livello di democrazia rappresentativa in cui non è neanche più rappresentato cioè proprio completamente scollegato se invece se invece attraverso la libertà e quello la libertà degli individui che creerà spero bitcoin la libertà dei canali di informazione che da internet si spera che la democrazia possa migliorare in questo momento stiamo facendo malissimo stiamo andando nella direzione opposta però vabbè assolutamente allora io adesso chiederei sempre a Simone giusto per per tornare un po' da Simone chiederei invece non so un'opinione secondo te secondo appunto il tuo pensiero economico ovviamente non relativo agli argomenti di cui abbiamo trattato ma se tu dovessi fare una panoramica sulla situazione economica attuale secondo te quali sono i problemi principali proprio a livello personale allora fammi ragionare un attimo io reputo che siamo in un momento dove effettivamente è sempre più evidente che c'è il bisogno di dare la colpa sempre a un qualcuno un qualcosa per riuscire a piuttosto che per un po' svincolarsi piuttosto che e adesso non so mi viene in mente l'inflazione adesso hanno stati tanti tassi di interesse e quindi ok le banche ne hanno risentite ne hanno risentito ok va bene allora noi salviamo le banche eccetera eccetera tutto quello che volete io penso che andare avanti così non sia possibile e lo dico da interno cioè nel senso io vedo anche su cioè il costo del denaro ad oggi è immenso non è corretto e sono d'accordo che le famiglie perché poi alla fine l'economia ok si può riprendere però le famiglie alla base sono quelle che più ne risentono le imprese sono quelle che più ne risentono e non so se è necessario tutto questo molto probabilmente sì però la fiducia che si sta creando nel la sfiducia che si sta creando nel sistema centralizzato appunto se così possiamo dirlo appunto è enorme e lo vedo proprio a livello personale cioè io ci lavoro ogni giorno lo vedo ogni giorno che è enorme sempre più persone ad oggi preferiscono comprare un alloggio una casa rispetto ad esso a magari a effettuare determinati investimenti finanziari o a lasciare proprio denaro all'interno dei conti correnti o delle banche io non penso che da qui a breve ci possa essere realmente una rivoluzione enorme magari come avete effettivamente parlato prima io penso che ci trascineremo dietro ancora per tempo delle brutte situazioni brutte brutte situazioni fino a che effettivamente non ci sarà uno di quei patatrack che poi possa essere dettato da effettivamente una guerra possa essere dettato da escalation politiche tutto quello che vuole crisi bancarie finanziarie questo non lo so sono sicuro che ci sarà un enorme patatrack prima o poi e ci sarà necessità di un cambiamento io penso che fare cambia ogni giorno cioè nel senso c'è un cambio di rotta ogni giorno ogni giorno c'è delle visioni differenti che però portano poi tutte allo stesso punto cioè nel senso portano poi tutto allo stesso punto io non posso dirvi che non avete ragione ma non credo che ad oggi sia possibile quello che voi dite cioè è una cosa che io purtroppo non riesco a concepire esatto quindi adesso magari a rotazione Francesco stessa domanda che ho fatto a Simone prego il problema di oggi qual è sono i 350 trilioni di debito che continuano ad accumularsi che si sono accumulati negli ultimi vent'anni continuano ad accumularsi io ho cominciato il podcast per questo per dire state attenti perché succederà qualcosa di grosso qualcosa di grosso è arrivato effettivamente lo sappiamo benissimo nel 2020 e sta continuando quindi questo conto ce lo faranno pagare a noi non lo pagano loro del club lo dobbiamo pagare noi che nel club non ci siamo la soluzione non può essere secondo me individuale perché collettiva non c'è preparazione quando c'è un problema ma l'abbiamo visto anche all'interno stesso di questa chat cosa si va a chiedere più stato c'è gente che non ce la fa arrivare fino a mese serve l'aiuto dello stato ci sono problemi economici solo lo stato può risolverli quindi la gente chiede più stato il processo non sarà che di progressiva socializzazione ancora più aggressiva nei prossimi anni in un conflitto sociale alla base sempre più alto ma come abbiamo visto anche a livello di stati nazionali perché questo fa la fiat money due guerre mondiali nel ventesimo secolo stiamo prossimi forse a un'altra in questo in questo nuovo secolo anche perché c'è una guerra come abbiamo detto prima ho detto prima io di guerra guerra valutaria il dominio del fiat basato sul dollaro contro chi vuole prendersi parte della torta e qui bitcoin speriamo che trovi il modo di incunearsi e far partire questa rivoluzione pacifica dal basso nella quale non è che confido molto da qui a vent'anni quindi beato di Simone che a venticinque anni potrà godersi lo spettacolo a lungo perché sicuramente sarà interessante sicuramente nei prossimi sette e poi per altri cinquant'anni saranno tempi di cambiamenti straordinari secondo me perché questo sistema comunque non è sostenibile e se fanno un reset o ci sarà un reset lo vedranno solo in pochi molti meno di quelli che siamo oggi sulla terra quindi speriamo nella rivoluzione pacifica di bitcoin piano piano una rivoluzione di massa ma la soluzione per me resta individuale e informarsi su questi argomenti e soprattutto su Fiat Standard è la cosa fondamentale per capire come funziona come funziona il sistema e dove sta andando a parare ottimo grazie Francesco Marco secondo me continueremo così a essere una società sempre più controllata almeno per altri non lo so tantissimi anni tipo mi immagino magari forse nel 2050 giù di là continueremo a avere sempre più restrizioni finché non arriveremo al punto in cui le persone rotte un po' le scatole inizieranno a guardarsi intorno capire che esiste un'alternativa e quindi vedo lì l'arrivo di bitcoin insomma quando si capirà che c'è un'alternativa che magari può essere molto più comoda è da capire se sarà effettivamente più comoda se avrà funzionato lo scopriremo e quindi insomma secondo me andremo verso un lento declino dove ci saranno sempre più problemi sempre più disuguaglianze finché come diceva Simone non si arriverà a un punto di rottura capiterà proprio il patatrack e nel giro di poco tempo poi le persone inizieranno a rendersi conto che c'è un'alternativa e poi da lì si vedrà grazie Marco Leo adesso la guerra valutare le guerre valutarie che ci sono e le guerre reali che ci sono adesso insomma diciamo prenderanno la scena per tanti per tanti anni e saranno ci faranno pagare un bel conto sicuramente c'è da dire che da un mondo comunque sicuramente gestito e governato dagli Stati Uniti e dal dai centri di potere degli Stati Uniti adesso si stanno creando delle alternative belle o brutte che siano quantomeno sono alternative cioè la Russia la Cina l'India e chi più di me si spera che questo possa creare un equilibrio si spera ora si vede anche come gli Stati stanno abbandonando il dollaro stanno accumulando oro come gli Stati stanno commerciando con le loro valute non più col dollaro non vedo la possibilità per cui non diventi Bitcoin la moneta di riferimento tra gli Stati in un futuro non so quantificare degli anni ma non non ha senso continuare a usare qualsiasi valuta che non sia Bitcoin nel commercio tra nei grandi scambi tra paesi e nei grandi scambi commerciali nella speranza che Bitcoin possa sanare il problema delle valute fiat tutto quello che viene addossato alla valuta fiat avendo Bitcoin come alternativa queste valute fiat possono diventare un po' più sane ecco e questa è una speranza che però una speranza di disegno di 30 anni ottimo ragazzi io vi rinnovo il mio ringraziamento più sincero è stato veramente un piacere avervi qui noi con l'arancione podcast riprenderemo ovviamente la schedulazione settimanale già tanti contenuti in arrivo grazie a tutti per averci seguito fino a qua io vi saluto Aledon Juei ci vediamo alla prossima puntata ciao grazie a tutti ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.